Tutto è iniziato con una frase scritta e poi lasciata in un cassetto. Da quelle parole, una in fila all'altra, sono nati due romanzi, Il Seme del Palissandro, tradotto in inglese, e La Casa di Mary Abram. A scriverli Massimo Rozzoni, piacentino, qualche anno fa si è lanciato in questa avventura, scrivere romanzi storici, partendo da una sua passione, la ricerca. I personaggi che popolano i suoi libri sono in parte reali e in parte immaginari. Scrivere mi dà pace, ho scoperto questo modo di tranquillizzarmi e tutto è partito da una frase che ho messo in un cassetto e ho dimenticato per qualche giorno, ma è continuato a presentarsi e ho seguito la frase senza sapere dove sarei arrivato. Sono nati da quella frase due libri, un altro in cantiere, di che cosa parlano, cosa si ispira per creare i suoi personaggi. Si svolgono dal 1715 al 1756, questo i primi due, il terzo verrà più tardi. Ma è la storia, in pratica, di quel periodo, soprattutto partendo dall'Inghilterra, ai Caraibi, tornando, e anche il secondo è ambientato interamente in Edimburgo, perché è un periodo molto particolare, anche se non è molto conosciuto. È il ponte di congiunzione tra la fine di un'era e l'inizio di un'altra, che è il 1800. Perché romanzi, diciamo, storici? La domanda tua è bellissima perché mi dà modo di spiegare una cosa. Per me ricercare nella storia è come setacciare la sabbia, come facendo i cercatori d'oro. E ti assicuro che ci sono di quelle pagliuzze dorate che nessuno conosce, che emergono e sono un aiuto enorme per chi scrive, perché le inserisci, sono cose vere, ne inserisci nel romanzo storico. Così come i personaggi, mi aspetto sempre dei personaggi reali, in quel momento devono essere lì, perché io, immedesimandomi, posso neanche incontrarli. E poi unisco altri personaggi che in genere conosco, dal medico curante, con le loro caratteristiche. Diventa una compagnia il personaggio, io ci ho passato un mese insieme e tutti mi hanno dato qualcosa. Massimo ha deciso di autopubblicare i suoi lavori, diventando editore di se stesso. Grazie a una piattaforma editoriale ho potuto farmi conoscere, il lavoro mio adesso è questo, farmi conoscere sia all'estero che in Italia.